Una pista di pattinaggio così, non credo che ce ne siano tante altre in provincia, è una pista realizzata nel 1980 e inclusa all'interno del Parco dell'Acqua Viva, ma che non aveva avuto mai manutenzione ai lavori di ripristino. Oggi siamo riusciti con un intervento importante di quasi 200.000 euro, sempre con fondi del PNRR, a sistemarla e a metterla a norma, perché la cosa più importante è stata quella. Una pista circolare con una pista al centro per il pattinaggio artistico. I ragazzi, vedete, già da questa mattina hanno riempito già tutta l'area sportiva ed è una giornata di festa, perché un'amministrazione comunale gioisce sia quando i lavori vengono realizzati nel modo corretto, così come si sono stati realizzati, ma tanto più quando al lavoro realizzato c'è una partecipazione di ragazzi, di società sportive, non solo così importante. Devo ringraziare in primis Sara Falini, perché era la precedente assessore con delega allo sport, con la quale abbiamo condiviso questo percorso. È stato concluso dall'assessore Alessandra Ferri la parte conclusiva di questo lavoro, di coordinamento con le società sportive. Oggi è veramente un giorno di festa per Terra, ma non solo per la città di Terra. Forse i più felici in tutta questa storia sono proprio le società sportive, perché non avevano uno spazio per poter fare queste attività di allenamento. Speriamo che il senso di civiltà dei cittadini possa far sì che questo impianto possa durare il più a lungo possibile. Noi ce l'abbiamo messa tutta nella realizzazione. Adesso lo consegneremo attraverso, come ho detto prima, l'assessore con delega allo sport del Santa Ferri alle società sportive e a quel punto speriamo che possa durare il più a lungo possibile. Il pattinaggio ha una tradizione nella città di Teramo e quindi sicuramente mancava come elemento nel patrimonio della impiantistica sportiva. E quindi da questo punto di vista è molto importante. E poi certo la posizione è favorevole perché nel cuore, nel nostro parco pluviale, in prossimità di altre strutture sportive, quindi proprio in una visione anche moderna, completa, quanto più possibile di offerta alla pratica sportiva. Le società si sono accordate per il momento per l'uso, poi certo in futuro penseremo anche se affidarlo in gestione tramite il bando. Adesso lo valuteremo. Per il momento c'è stato quasi un accordo spontaneo, quindi per il momento andremo avanti così. Questa mattina sono presenti Donatella Gramenzi per la GSD a Prutino, è presente Giuliana Ridolfi per l'International Skate, poi c'è anche Sandro Cipriani con i bambini che sono qui in corsa sui bordi, sulla parte della pista. E direi che il patinaggio è, come dicevo, ha una lunga tradizione. Ci sono campioni che vengono, anche molto recentemente abbiamo episodi di campioni, campionesse che provengono da Teramo. Questo sicuramente dà visibilità alla città, che è una cosa molto importante, ma quello che ci importa molto è il coinvolgimento di un grande numero di ragazzi, di giovani. e so che sono anche delle società molto sensibili all'inclusione, al sociale, perché ho avuto modo di conoscere, di incontrarle con loro, per cui direi che è sicuramente una realtà bella, importante, che va valorizzata.